Ciao ragazzi, di nuovo bentornati nel mio canale. Non so se avete visto tra gli ultimi miei filmati, ho postato un tutorial particolare su come realizzare un made-remel semplicemente utilizzando lo scaffandro di una videocamera subacqua. E sempre con tale scaffandro, ho realizzato successivamente dopo un faretto di quelli ad altissima luminosità, sempre utilizzando lo stesso scaffandro. Prima di entrare a vedere come ho realizzato questo faretto, vorrei fare un ringraziamento particolare a tutte le persone che si sono iscritte al mio canale, che hanno commentato, che hanno lasciato un bel like e condiviso. Un grazie veramente di cuore. Sarà per me un importante sostegno morale per realizzare altri video tutorial per voi. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!